Questo è il prodotto Mario, è una scatolina non troppo grande che contiene tutti i gancetti. La scatolina è comprata dalle dimensioni di circa 13 cm per circa 6-8 cm. Andiamo a vedere il prodotto, come vedete sono tutti ben messi dentro la scatolina, non lo viene confuso. Andiamo ad aprire il nostro prodotto nella scatola di uso. Ok, andiamo a vedere i gancetti. Allora, hanno questo passaggio per la cinta, che è notabile a 360 gradi, il grilletto con molla, lo spessore è di circa 1 mm per quanto riguarda la parte di lega e nella parte più grande siamo intorno al mezzo centimetro. Per quanto riguarda lo spessore della fettuccia siamo intorno ai 23-24 mm, la fettuccia che può passare al suo interno, quindi diciamo una fettuccia da 20 ci sciacqua abbastanza, una da 25 ci entra stringendoci un po'. Per quanto riguarda la parte esterna invece siamo intorno ai 20-28 mm. La lunghezza dal fondo della fettuccia fino al massimo del gancio siamo intorno ai 37-38 mm. Quindi è un gancetto molto piccolo ma comodo, vediamo come sia ben difficile farlo uscire dalla sede che adesso sto tirando, ma vedete che senza una pressione veramente elevata è difficile. Tutto completamente cromato in materiale metallico, rivettato qui al centro con molla di ritorno, vedete anche il passaggio tra l'un e l'altro è inferiore diciamo al millimetro, quindi non male da questo punto di vista. Il grilletto diciamo si indesca in maniera abbastanza semplice e va abbastanza in linea con quello che mi aspettavo. Quindi questo è il prodotto come vedete, c'è poco altro da dire un'altra cosa.